buongiorno a tutti innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori di questa iniziativa così interessante e vorrei ringraziare particolarmente massimo cacciari che conosco da più di vent'anni e che stimo tanto per la sua libertà di pensiero oltre che per la indiscussa cultura e come molti sapranno io sono stata una delle dire protagoniste mi sembra un troppo dare troppo enfasi ma comunque una delle virologhe impegnate in prima fila in questa tragedia covid è stato un covid medico ma è stato anche un covid sociale e un covid personale se guardiamo indietro vediamo troviamo tante paure tante chiacchiere tantissima infodemia ma quello che mi ha particolarmente toccata e ferita è una continua offesa alla scienza la storia ci ha riportato episodi di persecuzioni il periodo buio dell'inquisizione esempi di scienziati obbligati ad asservirsi al potere io credevo credevamo tutti che fossero momenti storici irripetibili era un'illusione poiché la pensavamo che nel oltre 2000 si vivesse un momento storico nel quale la libertà del pensiero e la scienza fossero centrali dicevo e sottolineo era un'illusione sin dall'inizio della pandemia certamente per motivazioni diverse ci siamo trovati a vivere un fenomeno a dir poco veramente inquietante che mette in evidenza come sia stato distorto il significato di scienza bisognosi di eh certezze nell'attraversare questo tsunami ehm molti hanno preferito seguire ed ammirare coloro che si sono arrogati il ruolo di bate depositari di verità piuttosto che fidarsi di coloro che hanno avuto il coraggio di mettersi in discussione e se necessario cambiare idea ma se questo atteggiamento può essere eh parzialmente giustificato dallo stato psicologico dei non addetti ai lavori eh della scienza ehm è assurdo per coloro che la dovrebbero rappresentare e tutelare non solo abbiamo avuto questi vati ma anche ehm le autorità istituzionali che non si sa se in buona o in mala fede o per leggerezza eh si sia si sono comportati ugualmente abbiamo assistito alla nascita di verità dogmatiche negando di fatto l'essenza principale della scienza eh questi falsi scienziati che molte volte non erano neanche eh non avevano neanche un substrato culturale per farlo hanno trascurato che la scienza autentica non può mai cadere nella trappola della semplificazione e della trasmissione di facili certezze la vera scienza eh vuole innanzitutto conoscere e non controllare chi ha un pensiero diverso il vero scienziato eh voglio ricordarlo è attento ai pensieri diversi dal suo perché risponde all'unico dogma che gli è concesso il dubbio le mie reminiscenze classiche mi suggerirebbero nomi di filosofi di scienziati ma insomma nel contesto in cui eh queste figure sono autorevolmente autorevolmente rappresentate eh mi limito e mi limito ad affermare eh che il dubbio il confronto tra idee diverse sono eh principi che avrebbero dovuto essere fondamentali a maggior ragione in una situazione completamente nuova da affrontare quando invece di fatto sono stati vietati purtroppo questo atteggiamento ha avuto ripercussioni gravissime non solo nell'ambito strettamente scientifico ma proprio sulla pelle della gente per la salute della gente sin dall'inizio della pandemia sono state enunciate verità che poi l'evoluzione della conoscenza scientifica ha in gran parte smentito eh la gente che non era stata avvisata su quello che sarebbe stato un processo scientifico che eh mutevole nel tempo eh ha avuto una reazione di delusione di confusione di sfiducia nessuno ha voluto ammettere che stavamo percorrendo un percorso pieno di imprevisti le istituzioni questo non l'hanno mai detto si sono sempre presentati enunciando ad alta voce presunte verità chi ha cercato di diffondere il messaggio del dubbio è stato aggredito mediaticamente e politicamente e lo affermo per esperienza personale che non ha non nascondo per nulla eh a marzo dello scorso anno il cosiddetto patto trasversale per la scienza è andato su tutti i media quindi è un fatto forse conosciuto un'associazione che al dire dal loro statuto ha il compito di diffondere la vera scienza e impedire che pseudo scienziati ovviamente da loro esaminati e così etichettati eh possano parlare e eh diffondere le loro eh teorie ehm questo eh mi si tacciava eh con questo patto trasversale della scienza mi ha ha diffuso nelle varie agenzie eh giornalistiche delle reti televisive senza mandare nulla a me una diffida nei miei confronti e si legge abbiamo inviato oggi una diffida legale alla professoressa Maria Rita Giosmondo rispetto non ripeto mai arrivata per le gravi affermazioni ed esternazioni pubbliche sul coronavirus eh volte a minimizzare la gravità della situazione non basate su evidenze scientifiche adesso non sto a leggere tutta la diffida ma sostiene che eh in una situazione di emergenza chi indossa un camice deve giustamente riporre nelle sue dichiarazioni un'estrema cautela e non deve eh fare delle ricostruzioni fantasiose eh per inquinare e confondere il dibattito pubblico le mie eh ricostruzioni fantasiose era dire che c'erano dei decessi che questi decessi erano polarizzati su persone estremamente fragili che bisognava indagare cosa che ha detto anche la mia collega Capua addirittura alcuni che so facevano parte che fanno parte di questa associazione si bisognava indagare se il covid non fosse stata una situazione aggravante o la diretta causa non perché i morti avessero un peso diverso ma perché dal punto di vista patologico epidemiologico poteva fare la differenza ehm la affermano che le mie le mie i miei interventi rischiavano di turbare l'ordine pubblico addirittura sono diffidata perché ho trasgredito l'articolo seicentocinquantasei del codice penale eccetera eccetera e mi invita questo è veramente interessante ad astenermi dal diffondere notizie e quindi di fatto l'obiettivo è quello di zittirmi eh rivolta mi sono rivolta anche a delle a delle persone che rappresentavano delle istituzioni la reazione è stata praticamente pari a nulla pari a zero e mh la cosa ovviamente è finita lì da questo per quanto riguarda questa diffida ma ehm no è andata avanti come molti di voi sanno attraverso i media e attraverso determinate posizioni che purtroppo sono state prese da nei miei confronti solo perché io eh fondo tutta la mia ricerca sul dubbio che secondo me è l'unico mezzo per eh migliorare. Eh il fenomeno liberticida nei nei miei confronti è continuato non voglio eh raccontare tutta la mia storia ma vi dico che sono stata chiamata tre volte dall'ordine dei medici di Milano e una volta in maniera veramente molto ridicola sono stata eh invitata a svolgere un compitino scritto con alcune domande una di questa era se potevo mi sentivo di dover affermare che io avessi agito sempre per il bene pubblico ecco ehm è una cosa eh veramente eh indecorosa quello che è successo è sotto gli occhi di tutti perché ehm è stato sempre eh vietato avanzare il minimo dubbio e soprattutto questo è accaduto eh da quando eh sono stati presentati i vaccini. Su questo argomento è è calata una protezione totale nei confronti di chi volesse saperne di più e il saperne di più significa far del bene alla sanità pubblica e non non dico avanzare dubbi sulla vaccinazione perché questo è stato poi detto la vaccinazione come pratica sanitaria è assolutamente è scientificamente provato che ci ha salvato dalle grandi epidemie dal vaiolo dal la poliomelite ma quando c'è una nuova vaccinazione che viene approvata con veramente saltando tutti eh gli ostacoli possibili delle varie sperimentazioni e qualche dubbio sorge qualche voglia di indagare di più eh sulla sugli effetti eh benefici ma anche su quelli che possono essere gli effetti collaterali ma eh non è mai stato concesso a noi ricercatori eh di avanzare un'ipotesi del genere e per proteggere il messaggio unico accettato cioè vaccinarsi tutti ad ogni costo senza se e senza ma ripeto sono una vaccinista perché poi ogni cosa viene strumentalizzata purtroppo oggi in questo senso ehm si ha cercato di approfondire di chiarire è stato subito additato come Novax e allora la paura di essere additati eh etichettati come Novax ha indotto molto molti dei miei colleghi a parlare nell'ombra ma mai ad esporsi avere il coraggio di dire ecco ci sono esistono decine di chat tra noi eh chiamiamo esperti virologi chat nelle quali ci sono anche rappresentanti ministeriali nelle quali in maniera assolutamente carbonara si avanzano questi eh questi dubbi ci si scambia delle idee delle ipotesi qualcuno è d'accordo altri no così come si deve fare in una buona scienza ma rimane nel buio e nel silenzio carbonaro non si può uscire allo scoperto ma eh il vaccino e i vaccini non hanno neanche consentito non è stato dato spazio perché si potesse anche accettare un'altra arma estremamente efficace eh contro la pandemia dico un'altra arma non un'arma sostitutiva cioè le terapie non possiamo non ricordare il sito del ministero della salute che disconoscendo gli schemi delle cure domiciliari che erano stati messi che sono stati messi appunto da centri di ricerca autorevoli parlo del Mario Negri del professor Remuzzi ecco il ministero della salute ha continuato a eh consigliare una vigilia attesa ecco la vigilia attesa e la sicurezza verso eh la malattia severa ed il decesso in qualsiasi patologia quello che fa la differenza è la diagnosi precoce ed intervenire precocemente attendere in sanità vuol dire eh impedire l'intervento vuol dire avere meno probabilità di cura e di esito positivo e quanti morti eh ha procurato tale vigilia attesa nel ehm in Italia e quanti morti o quanti ricoverati in terapia intensiva avremmo potuto risparmiare se l'AIFA che è velocissima in alcune situazioni eh non avesse mh perso mesi per autorizzare l'utilizzo dei monoclonali salvavita eh per ben due volte ma gra malgrado fossero autorizzati in altri paesi l'AIFA ha respinto la documentazione perché è insufficiente la terza volta è stata pressata e direi minacciata dalla federazione dell'ordine dei medici dai non ricercatori dagli scienziati perché li autorizzasse eh benissimo nei discorsi istituzionali monoclonali sono rimasti assenti i medici non sono stati invitati ad usarli non sono stati formati ad usarli tanto che migliaia di dosi arrivate alla scadenza poi sono state regalate all'Ungheria perché noi ne abbiamo utilizzato circa mille mille trecento su centinaia di migliaia acquistati e gli antivirali che finalmente la ricerca ci ha proposto eh la Gran Bretagna prima gli Stati Uniti dopo li hanno autorizzato già da uno o due mesi eh le prove ci hanno dato un ci hanno ci garantiscono il novantuno per cento di efficacia per evitare l'ospedalizzazione e il decesso cosa aspettiamo? Ebbene il CTS aveva detto eh il portavoce del CTS del Comitato Tecnico Scientifico il professor Locatelli aveva detto circa un mese fa che sarebbero stati disponibili a fine anno non sono stati ancora autorizzati non abbiamo eh informazione delle eh dell'approvvigionamento eh da parte del del nostro ministero eh di esempi di non senso di chiusura di eh delle bocche e ne potremmo fare tantissime ma anche di ehm eh diciamo eh raggiri eh non è stata umiliata solamente la scienza ma è stata umiliata anche la popolazione trattata come bambini eh che per far vaccinare dobbiamo minacciare di non uscire da casa dobbiamo aggirare il tutto chiamando Green Pass un falso obbligo a vaccinarsi ecco questo è veramente eh e continua ad essere umiliante io non non può non ho la competenza per esaminare quanto nel Green Pass ci sia di legale non legale costituzionale o no perché non è eh la mia competenza però eh il buonsenso eh la logica ci dice che il pannicello caldo che permette al governo di non rendere obbligatorio il vaccino eh ovviamente e quindi non prendersene le responsabilità di eventuali conseguenze e ma nello stesso tempo arrivare a renderlo obbligatorio peraltro adesso siamo in un periodo in quale pare si scelga di renderlo obbligatorio dovremmo anche capire verso chi perché rischio beneficio la scienza dice terapia o o vaccino sì ma lì dove eh il rischio degli effetti collaterali seppur abbiamo visto minimi ma comunque ci sono devono essere minori eh rispetto al beneficio del trattamento e quindi ne confronti per proteggersi dalla severità della malattia ma eh la questo Green Pass tra l'altro ha delle incongruenze sanitarie pazzesche per esempio non è allineato con la vaccinazione ehm questo Green Pass che è stato dodici mesi nove mesi sei mesi ogni giorno scopriamo che ha una validità diversa va per conto suo dall'altro lato i vaccini con il richiamo dopo cinque mesi eh adesso si parla addirittura di una quarta dose mentre quindici giorni fa era stato detto con la terza dose probabilmente per quattro cinque anni non avremo bisogno di fare vaccino ecco in quel caso eh sarebbe ottimale per tutti che si tacesse bisogna tacere se si parla cercando di abbindolare la gente senza avere delle solidità eh scientifiche ma ehm passo ad un argomento che io reputo particolarmente tragico e che mh è stato eh trattato veramente con una leggerezza da incoscienti parlo dell'autorizzazione del vaccino nella fascia cinque undici anni allora uno dicembre la commissione tecnico scientifica dell'AIFA dà il via libera all'estensione dell'indicazione di utilizzo di Comirnaty cioè del vaccino Pfizer per i bambini da cinque undici anni con dose ridotta e una formulazione specifica eh l'annuncio arriva a sera tarda eh dopo solo qualche ora che era stata diffusa la notizia che la commissione era riunita che avrebbe lavorato dal due al tre di dicembre esaminando il dossier quindi sono bastate due ore forse tre per esaminare tutto e per dare l'autorizzazione nella storia dell'AIFA sono andata a vedere non esistono non si ricordano tempi così brevi per un'autorizzazione di farmaci o di vaccini eh solo qualche ora per una decisione di così importante eh responsabilità e non so se eh eh sotto il avete letto eh il documento che è stato pubblicato dall'AIFA che è da sgomento perché dopo aver elencato una serie di fatti assolutamente attaccabili imprecisi dal punto di vista scientifico l'AIFA aggiunge che la vaccinazione comporta altri benefici ad esempio la possibilità di frequentare la scuola e condurre una vita sociale connotata da elementi ricreativi ed educativi che sono particolarmente importanti per lo studio psichico della personalità in questa fascia di età ma io sapevo che l'AIFA fosse un'agenzia sanitaria non ha alcun diritto di esprimere giudizi sociali eh men che meno larvatamente discriminativi la discriminazione sì sarebbe veramente eh eh un documento per questi bambini frequentare la scuola non è una possibilità ma è un diritto e fino a quando la vaccinazione non sarà reso obbligatoria anche per questi bambini potranno frequentarla seguendo le norme vigenti di contenimento e senza nessuna discriminazione io non capisco perché l'AIFA si sia spinta e cosa ci sia dietro a questa dichiarazione dell'AIFA ecco veniamo allora eh giusto per chiarire perché lo reputo un argomento eh eh veramente da sgomento i i dati disponibili dice AIFA dimostrano un elevato livello ed efficacia e non si evidenziano al momento segnali di allerta in termini di sicurezza il controcanto è quello della Pfizer che la che la produce che dice pochi dati sul rischio miocardite nei bimbi bisogna approfondire allora io mi chiedo perché non attendere perché non seguire le stesse indicazioni che vengono pubblicate sul sito dell'AIFA per la registrazione sicura di un farmaco perché saltare gli studi su tollerabilità ed efficacia eh su la dose ottimale chi ha scelto la dose ottimale l'unico lavoro pubblicato sulla sperimentazione di questo vaccino nei bambini in quella fascia di età parla di duemila eh bambini di cui metà vaccinati e metà no quindi una significatività irrisoria se si manda a una rivista seria come l'Anset, Nature, un lavoro con questo numero di eh soggetti trattati lo rimandano indietro perché non è valido allora non siamo Novax siamo dei ricercatori che hanno coscienza che sono attendisti nel rispetto della cautela e io direi che nessuno si permetta di tradurre questa dovuta prudenza e aderenza ai protocolli scientifici in un'avversità al vaccino che noi tutti auspichiamo arrivi se se efficace se necessario arrivi a tutti e così potrei continuare in una serie di non senso in una serie di misure che sono date come misure sanitarie ma non si sa cosa servono l'esempio banale ridicolo se prendo un treno ad alta velocità devo avere il Green Pass se attraverso tutta l'Italia con un treno regionale posso non averlo ehm al bar seduti in piedi al ristorante allora è tutto uno scenario veramente che mi viene difficile esaminare per le sue finalità eh se non quelle sanitarie confuse eh chiudo forse eh mi sono dilungata fuori dai tempi dovuti chiudo dicendo in fondo qual è lo scopo di questo mio intervento ecco è quello di una ricercatrice che ha dedicato più di trent'anni alla ricerca e che adesso si sente eh umiliata per gli attacchi che spesso le vengono fatto perché vuole continuare a rispettare la scienza per il bene della gente e spero che più persone si accorgano che la scienza non si debba a imbavagliare proprio per il bene di tutti io ringrazio tutti e diffido coloro che dopo questa mia relazione volessero appiopparmi etichette che non mi appartengono grazie